La musica dell'orchestra La musica è esaltazione, è per il mio Marco, è veramente esaltante. Davide che faccia parte di questa orchestra è come far parte di una grande famiglia. Noi ci sentiamo a casa. Oltre ad essere una scuola di musica, è anche un punto di incontro, un punto fermo per i genitori. È bello anche condividere la musica con gli altri, sentire quello che fanno gli altri. È un'emozione anche per l'atmosfera che si crea. Un insieme di energia positiva, bella, che viaggia. Se tu decidi di stare sax, guarda l'insegnante. E fai tu l'insegnante a me. No, io sono modicista. Grazie a tutti. 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 Il disabile per la prima volta insegna anche ai bambini in ospedale, quindi diventa proprio attivo. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti.